Camminare leggero, soddisfatto di me, da Parma a Reggio, a Modena, a Carpi, a Carpi al Tuvat. Cantava così Giovanni Lindo Ferretti in Emilia Paranoica, la canzone simbolo dei CCCP, quella che alcuni critici musicali hanno definito il grande poema epico della provincia italiana e che ha fissato l'umore di una generazione, quella cresciuta nel nord Italia degli anni 80, una generazione costantemente in bilico tra ricerca, sperimentazione, desiderio d'evasione da una parte e le lasagne della mamma dall'altra parte. Questa dicotomia tra un'insoddisfazione, una tensione verso qualcosa di nuovo e il rassicurante conforto di ciò che è familiare è forse una delle caratteristiche dell'universo della pianura padana. Aspetto un'emozione sempre più indefinibile era infatti il memorabile ritornello della canzone, che in sole sei parole riassumeva un paesaggio interiore che era l'inevitabile correlativo oggettivo di un paesaggio esteriore. Non è quindi certo un caso che i CCCP abbiano poi incontrato sulla loro strada Luigi Ghirri, il massimo cantore del paesaggio padano, affidando a lui la copertina del loro ultimo album, datato 1990. Ghirri d'altronde in quegli anni era già ampiamente riconosciuto come il fotografo che, concentrandosi sui paesaggi della pianura, aveva dato corpo a un'idea di paesaggio che riscriveva alla base il concetto del bel paese, così come era stato raccontato per decenni nei cataloghi dell'amato e odiato touring club italiano. Il paesaggio di Ghirri, come raccontato da Marco Belpoliti in un suo recente libro, era frutto di un'attenzione fatta di cose antiche ma sempre nuove, quelle che vedono gli abitanti della campagna emiliana da secoli, pezzi di cielo, oggetti di casa, muri sbrecciati, vecchie cascine, cose di nessuna importanza. Questa fotografia, all'apparenza così dimessa, ma in realtà tutt'altro che incolta, così votata al racconto dei silenzi più che delle voci, si è imposta rapidamente nella fotografia del suo tempo, definendo una volta per tutte una prassi visiva che ha attraversato i confini della pianura, andando a toccare anche luoghi spesso antitetici alle placide distese pianeggianti della sua Emilia. L'influenza colossale avuta da Ghirri sulle successive generazioni di fotografi è qualcosa di difficilmente quantificabile, data la sua enormità. Né è necessario tentare di riassumerla in questa sede, considerando che, pur in un panorama stitico come quello della storiografia fotografica italiana, la cosiddetta nuova scuola italiana di paesaggio ha goduto di una fortuna critica che a tratti è parsa perfino ridondante. La cosa che però sorprende è come quella lezione sia ancora oggi viva e pulsante, stupisce quanti siano ancora i fotografi appartenenti a generazioni anche molto distanti tra loro che continuano a fotografare i luoghi della pianura padana come se fossero i soli luoghi possibili da fotografare, come se valesse la pena solo di cercare quanto si trova dietro casa, come se solo il già noto potesse essere l'unico interessante soggetto di ricerca. Si tratta di autori che sono nati e cresciuti in quei luoghi e da quei luoghi non si sono mai allontanati, non davvero. Intorno a questi autori è fiorita una ricca messe di pubblicazioni, di fotolibri, di mostre che hanno costantemente oscillato, quasi a riconfermare quella dicotomia che dicevamo prima, tra sedi editoriali e espositive prestigiose e altre più nascoste, tra eventi celebrati e altri appena notati. Nel mio intervento cercherò in particolare di tracciare un piccolo itinerario, sicuramente incompleto, certamente arbitrario, senza dubbio frutto di una semplificazione di natura convegnistica e probabilmente anche frutto di preferenze e idiosincrasie personali, ma credo un itinerario comunque rappresentativo della produzione fotografica degli ultimi 10-15 anni circa che ha avuto come soggetto privilegiato la pianura padana, i suoi paesaggi, i suoi scempi e le sue genti. In particolare, per questo intervento odierno, mi appoggerò alle pubblicazioni di una piccola case editrice indipendente, la Quinlan, che oggi si è trasferita in una zona quasi appenninica, ma è nata diversi anni fa proprio nel cuore della pianura padana, che da anni porta avanti una tenace opera di esplorazione di quei territori. Lo fa attraverso fotolibri, editi per lo più in tirature limitate, che sono concepiti dagli autori come progetti a sé stanti, resoconti di ricerche protratte nel tempo, così come telegrafici racconti di microstorie. Nello sguardo d'insieme viene fuori il racconto di quello che Ghirri aveva chiamato, con una fulminante espressione, questo sterminato luogo comune. Ma viene fuori anche la vitalità di una scuola che non si è mai considerata tale, di una comunità di fotografi che non si ritengono necessariamente legati l'uno all'altro, di un occhio collettivo che riguarda tanti sguardi personali. Insomma, viene fuori quell'emozione sempre più indefinibile che i CCCP aspettavano in quelle notti di non so più quale amor mio che non muore. Andando in un ordine semplicemente alfabetico, incontriamo per primo Mariano Andreani, che da molti anni sta portando avanti una ricerca sulle topografie dei suoi luoghi. Siamo quindi ai margini della pianura padana, nella zona lagunare laddove, diciamo, ci si congiunge un po' alle prealpi bellunesi. Basandosi sulle carte topografiche del suo territorio, Andreani ha sviluppato un racconto che intreccia sottilissime linee narrative basate dall'accostamento di fotografie, di immagini, a una metodica catalogazione delle direttrici che segnano proprio quell'arco di territorio che dalla laguna Veneta arriva sino alle prealpi bellunesi, così come segnato nelle carte topografiche regionali. La ravennate Alessandra Dragone invece ha raccontato in un suo progetto intitolato At 14 un'iniziativa che si chiamava Parti in Terza e che alcune associazioni avevano organizzato in uno spazio recuperato della città. L'iniziativa era finalizzata a costituire uno spazio d'incontro tra gli adolescenti che avevano concluso la scuola media e si apprestavano a iniziare il corso di studi secondario di secondo grado. Sono consapevole proponendovi queste immagini di forzare non poco il concetto di paesaggio, così come è concepito normalmente. Tuttavia credo che nessuno qua dubiti che il racconto dei territori non possa mai prescindere da chi quei territori li abita e li vive. Si tratta forse di un paesaggio umano che è una categoria critica di comodo che ci aiuta però a portare nel discorso il rapporto tra paesaggio ed entità inserendo il fattore umano. D'altronde bisognerà pur tenere presente che quando usiamo la parola paesaggio ci riferiamo sempre a qualcosa di fortemente antropizzato. Ancora da Ravenna, meglio ancora da Massa Lombarda, viene Marcello Galvani, un fotografo che negli ultimi anni si è segnalato come una delle figure emergenti più rilevanti della nuova generazione di fotografi. Galvani attraverso una edizione estremamente oculata, estremamente ponderata di fotolibri spesso di poche pagine, sempre curati personalmente con grande attenzione in tirature assai limitate, Galvani sta costruendo in questo modo un archivio personale dei suoi territori, in particolare quello di Massa Lombarda dove è nato e dove vive. Nella fotografia di Galvani micro storie si intrecciano delle suggestioni temporanee e rimandano a una flanerie che tutto sommato non è priva di aspetti dendistici, di un certo tratto di eleganza quasi ostentata. Luca Gambi è invece un autore che spesso e volentieri ha spaziato oltre i confini della pianura padana, aprendosi al racconto di luoghi e comunità e vicende anche molto lontane da lui, per esempio ha fatto diversi lavori sulle comunità di migranti insediatesi sui territori italiani, però ha sempre fatto assieme e mai in antitesi ai luoghi natali che rimangono comunque il focus principale della sua ricerca. Uno dei temi del suo lavoro è l'inatteso, The Unexpected, ma si potrebbe questo inatteso chiamare volendo anche un Heimlich, dato che l'improvviso apparire dell'inatteso ci offre una visione distorta di ciò che è già noto, familiare, rivelando nuovi aspetti e ridefinendo, o forse meglio ancora, sfocando i contorni di quelli che sono i nostri territori, i territori della pianura padana. Allegra Martin è invece una fotografa Veneta e allieva di Guido Guidi, come molti dei fotografi che stanno ridisegnando il panorama visivo della pianura padana. Con un approccio che a prima vista potrebbe apparire reportagistico, ma che in realtà deriva molto più strettamente dalla prassi del catap letterario, Martin esplora i territori che attraversa con uno sguardo a tratti distratto e a tratti divertito. È un immaginario catalogo delle coincidenze, che ancora una volta però diventa una marca territoriale. Potremmo forse essere ovunque in queste immagini, ma alla fine si finisce sempre per essere là, dietro casa, nelle brume esistenziali della pianura padana. Ancora da Ravenna, che si pone un po' come capitale di questo non-movimento di autori e di sguardi, viene anche il progetto blisterzin, che è costituito da una coppia, Emiliano Biondelli e Valentina Venturi. Il duo, in vari lavori di questi ultimi anni, ha raccontato tiche manie delle piccole comunità amatoriali dedicate a hobby disparati e spesso eccentrici. Ad esempio Turbo Vanish è un lavoro che nella sua peculiarità non potrebbe forse essere più legato alla pianura padana. Si tratta di un lavoro sulle comunità di customizzatori di automobili, persone cioè che personalizzano le proprie auto con colori, impianti stereo e motorizzazioni che appaiono paradossali, assolutamente sovradimensionati rispetto al tipo di automobili su cui vengono applicati. Con uno sguardo distaccato che però non è mai cinico, il duo tratteggia una sorta di genius sloci della pianura padana, tanto originale quanto chirurgicamente preciso. Luca Nostri invece è un autore estremamente colto, si è costruito nel tempo un respiro internazionale e l'ha fatto partendo dall'estremo particolare, dall'estremo locale, cioè la cittadina di Lugo, che è il luogo dove vive, lavora e fotografa. Ancora una volta siamo nei pressi di Ravenna. In quel di Lugo Nostri è anche curatore di una serie di pubblicazioni fotografiche per una piccola casa indipendente, le edizioni del Bradipo, e che costituiscono un'altra delle tessere del mosaico visivo della pianura padana contemporanea. Il racconto di Lugo, secondo Nostri, ha forme asciutte, semplici. È un linguaggio che rimanda a una familiarità, a una confidenza con i luoghi, che sono il rassicurante alvio di una comfort zone, che alla fine finisce per essere un comfort place, se volessimo un po' giocare con le parole. La casualità, o per meglio dire l'alfabeto, ha voluto che l'ultimo autore di questa mia brevissima rassegna fosse Giovanni Zaffagnini, e ne sono contento perché è la scelta che avrei comunque fatto anche se l'ordine fosse stato basato su criteri, per così dire, culturali o estetici. Questo perché si tratta di un autore della vecchia generazione. Zaffagnini, che classe 1945, si è formato a suo tempo nell'alveo del leggendario viaggio in Italia Ghirriano, e a quell'esperienza è rimasto costantemente fedele. Il suo tenace è concentrarsi sulla bassa Romagna, nei luoghi che fanno da confine, laddove la pianura cede il passo agli appennini. Il lavoro di Zaffagnini è un po' l'ideale passaggio di testimone tra generazioni, nel senso di una comunità visiva che, al di là degli strappi, delle eccezioni e delle infrazioni, costituisce l'identità visuale della pianura padana, un'identità fatta di attenzione alle piccole cose e dettagli insignificanti, come se il piccolo dell'ordinario rimandasse al grande del territorio, come se il locale della pianura rimandasse a un universale dei luoghi. Chiudo con una piccola bibliografia, ampiamente incompleta, non è una biografia rappresentativa del movimento, ma rappresenta a caso mai l'elenco di ciò di cui ho parlato. Serve però a ribadire in che modo il fotolibro, spesso in tiratura limitata, si è in questi ultimi anni uno dei veicoli preferiti dai fotografi contemporanei per dare conto delle loro ricerche. Appare ormai forse tramontato, e lo è da prima della pandemia, il tempo delle grandi mostre retrospettive, degli eventi celebrativi, dei cataloghi in formato mammut. Si preferisce oggi una disseminazione discreta, selettiva, direi quasi elitaria, riservata a spettatori consapevoli e non casuali. Se questo sia un bene o un male, potremmo forse parlarne. Però rimane il fatto che la pianura padana, ancora oggi, è il luogo dove torme di fotografi si aggirano e rabondi, in cerca di immagini che siano il meno significative possibili. E questo perché la pianura, per dirla ancora con i cccp, è il luogo in cui seduzione è dormire. Grazie.